Dov'è una mano a leggere il giornale questa mattina? Il giorno è un giorno di più, ma è un giorno di più, ma è un giorno di più. Mr. Happy decide per il futuro e ne fa sette. Con Lorenz. Ilo o Lorento. Con Lorenz. Con Locke. Giusto vero. Con Lorento. Lich. 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 Lincestern. Lich Steiner. E compagnia bella. Una domenica estremi. Ecco se è mai, mai, mai lì. Incredibile for... For i bianconeri. Carlos. Carlito Stevez festeggia il ritorno in nazionale con un double. Dublé. Dublé. Con due reti. Una rete Maradona stile. Stile. Stile Maradona. Per gli yellow, blu. Blu, blu, blu. Egame over. Conte direbbe agghiacciante. Agghiacciante. Scary. Terribile. Classica frase di Conte. Allora, leggiamo da capo. No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Allora, leggiamo. Allora, leggiamo da capo. Allora, leggiamo. Allora, leggiamo. Grazie a tutti